bentornati a tutti sul nostro canale giarugo.com e benvenuti a chi ancora non ci conosce siamo qui con i nuovi grattevinci canari quindi questa sera gratteremo assieme questi grattevinci che sono appunto spagnoli del correo come vedete che sarebbe le post sarebbero le poste spagnole e questi grattevinci particolari pazzeschi direi guardate come sono belli si chiamano appunto buzzon che vuol dire cassetta postale cassetta delle lettere che è un gioco che ha 125.000 premi distribuiti nei loro tagliandi sono premi tutti dai 10 ai 500 euro il tagliando costa 3 euro e il premio massimo che si può vincere e di 100 mila euro poi lo vedremo meglio in dettaglio dopo e poi abbiamo è il gran buzzon che invece è un tagliando più importante sempre della stessa serie come vedete 250 mila euro il premio massimo che si può vincere sembra che non è male e sono 495 mila premi dai 10 ai 5 mila euro e il costo di ogni tagliando di 5 euro allora vi ricordo che potete chiederci nei commenti o nelle dirette la dedica del tagliando quindi se ci chiedete la dedica nei video successivi vi dedichiamo un gratta e vinci apposta lo diciamo col vostro nome sperando che ci porti fortuna ma allora non perdiamo tempo zoomiamo bene sul tagliando come vedete ci sono i tre furgoncini postali e i pacchi postali 1 2 3 4 5 6 7 8 che sono appunto i pacchi che tengono i numerini sotto che ci interessano poi qui abbiamo un altro gioco con le vespe del postino anzi ne approfittiamo per salutare tutti i portalettere e questo è un secondo gioco che vedremo dopo ma cominciamo subito col primo gioco cioè andiamo a grattare il primo furgoncino vediamo un po cosa viene fuori il primo numero che esce il numero 99 e questi sono i nostri numeri e poi abbiamo il numero 1 e poi abbiamo il numero 2 a 9 28 scusate quindi abbiamo 9 1 e 28 questi sono i numeri vincitori vediamo cosa nascondono i nostri pacchi allora andiamo col primo pacco 6 non abbiamo niente andiamo col secondo pacco 29 accidenti abbiamo il 28 abbiamo il 29 pazienza altro numero terzo pacco 12 niente anche qui non abbiamo nulla quarto pacco vediamo un po numero 30 niente purtroppo anche questo non ci è d'aiuto andiamo al quinto pacco 7 numero 7 numero 7 ovviamente i numeri sono in spagnolo perché stiamo giocando col gratte vinci canario il grattino canarino come lo chiamiamo noi spagnolo è speciale per voi su questo canale solo su giarugo.com lo trovate allora andiamo col terzo ultimo pacco vediamo se siamo un po fortunati 25 niente da fare abbiamo il 28 penultimo pacco vediamo un po 20 27 niente abbiamo sempre il 28 mannaggia abbiamo fatto 29 25 27 manca il 28 vediamo l'ultimo pacco e questo è il numero 2 e purtroppo questo gratte vinci in questo gioco è perdente ma andiamo a vedere il secondo gioco allora abbiamo 1 2 3 4 5 6 vespe allora qui dobbiamo trovare tre cifre uguali se le cifre le troviamo e sono tre vinciamo il numero della cifra cioè vinciamo gli euro della cifra vediamo un po qui abbiamo mille euro la seconda vespa abbiamo 3 euro niente praticamente la terza la terza vespa abbiamo mille euro quindi abbiamo mille euro qua e mille euro qua se troviamo un altro mille euro abbiamo vinto mille euro vediamo un po questa vespa qui cosa ci riserva un 3 a 3 3 quindi mi sa che troveremo un altro 3 se sono fortunati speriamo almeno recuperiamo i soldi mille mille noi 100 euro mannaggia ragazzi avremmo potuto fare mille mille e mille vabbè vediamo l'ultima vespa cosa viene fuori 10 euro niente questo tagliando qui purtroppo non ci ha fatto vincere niente non è stata una manche fortunata pazienza ma diamoci da fare adesso con il gran buzz on questo qui ragazzi da 5 euro i premi qua sono più alti speriamo di essere più fortunati ricordo sempre che questo è gratte vinci canarino il grattino canarino direttamente dalle isole canarie il simbolo è quello delle poste spagnole correos che vendono questi gratte vinci meravigliosi e qui abbiamo ancora un altro gioco il bonus extra che non so come funzioni questo adesso lo vediamo assieme così allora dice se troviamo 10 vinciamo 10 se troviamo 20 vinciamo 20 e super bonus se incontriamo 30 no 50 non riescono anche a vedere bene e 50 si può vincere 50 non andiamo coi furgoncini prima di tutto che sono i nostri numeri con i quali dobbiamo vincere vi ricordo se volete la dedica del gratte vinci scrivetelo nei commenti e noi ve lo dedichiamo questo intanto lo dedichiamo a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento grazie se vi piace il nostro video vi ricordo iscrivetevi al vostro canale e mettete il like che ci fa crescere l'unico modo che abbiamo per poter crescere e per continuare a darvi questi contenuti e questo divertimento che dura lo so lo spazio di un video 10 minuti però è importante ci fa svagare ci dà la possibilità di stare assieme e di fare qualcosa di divertente allora torniamo al nucleo di quello che vogliamo fare insomma primo furgoncino i nostri numeri sono 27 poi abbiamo un 23 per me il 23 numero fortunato vi ricordo vediamo un po quando c'è 23 sono sempre contento e poi abbiamo il 14 e poi abbiamo ancora come numero nostro il 9 anche il 9 un numero che mi piace molto allora abbiamo 3 3 6 3 9 3 12 pacchi da aprire che sono un sacco allora andiamo col primo pacco vediamo cosa troviamo numero 6 niente non ce l'abbiamo da nessuna parte poi andiamo col secondo pacco numero 17 abbiamo il 14 niente terzo pacco 26 neanche questo lo abbiamo abbiamo 27 quarto pacco 14 qui abbiamo preso ragazzi allora lasciamolo un attimo da parte il 14 eccolo qua vediamo dopo cosa corrisponde questo premio 14 poi andiamo su quest'altro pacco numero 28 numero 28 niente da fare poi abbiamo il numero 7 niente neanche questo poi abbiamo il numero 4 sembrava 14 invece 4 niente da fare e poi andiamo su questo numero 11 e non l'abbiamo neanche questo però ricordiamoci che abbiamo trovato il 14 poi andiamo su quest'altro 22 e poi andiamo su quest'altro 22 anche il 22 numero che mi piace moltissimo ragazzi tanto tanto e vediamo anche qui il numero 24 niente da fare penultimo pacco 19 e ultimo pacco 13 che non ce l'abbiamo però abbiamo questo 14 abbiamo questi due qua 14 14 andiamo a scoprire a questo punto quanto vinciamo 5 euro beh bene riguadagniamo il prezzo che abbiamo speso per il tagliando 55 e ora però vediamo il bonus perché queste che abbiamo qualche bonus bonus 15 niente non c'è il 15 bonus 15 quindi niente neanche qui e bonus 55 nulla da fare però abbiamo vinto 5 euro con il 14 bene vi ricordo che abbiamo scoperto anche il codice poi per avere il pagamento vi ricordo che abbiamo giocato con il grattevinci delle canarie il grattino canarino come lo chiamiamo noi di jarugo.com ci siamo divertiti con questo tagliando non abbiamo incassato niente quindi questo è andato a vuoto e invece con quest'altro abbiamo preso 5 euro che comunque è il valore del tagliando stesso ovvero meglio che niente vi salutiamo ragazzi ci sentiamo al prossimo video cari amici metteteci like metteteci mi piace e iscrivetevi al nostro canale così ci date la possibilità di poter continuare a grattare i grattini canarini insieme a voi grazie e alla prossima ciao 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 ciao